Sono Nicola Martellaro, sono un chirurgo estetico che si occupa da circa 20 anni di medicina e chirurgia estetica. Dopo la specializzazione in chirurgia generale mi sono dedicato sin da subito alla chirurgia estetica e ho deciso di specializzarmi in chirurgia della mammella e mi sono dedicato a Milano presso l'istituto europeo di oncologia diretto dal professore Veronesi dove ho fatto questo master in chirurgia ricostruttiva della mammella.